Sì, il più giovane ad entrare nel Museo dello Sport è ovviamente un grande onore far parte, insomma, di avere un piccolo allestimento nel museo in cui ci sono tanti grandissimi sportivi di tutti gli sport quindi è un onore far entrare nel mio piccolo il golf e questo bastone e ovviamente anche essere il più giovane quindi ringrazio il Museo dello Sport per avermi dedicato una piccola parte Sì, c'è la guerra e l'idea periodica diversa e resta a la maison, a la fenêtre, contant les heures a la fenêtre, contant les heures